Bene amici, finalmente sono un po' in ritardo, recensione del nuovo Alexa Echo Show 8 di terza generazione e della Fire TV Stick 4K Max. Partiamo subito da lui, cos'è cambiato? Vi dico subito tre cose. L'audio spaziale molto migliorato, due driver, cioè due altoparlanti full range da 52 mm, con anche un radiatore passivo per i bassi, suona molto meglio, quella forse è la differenza più grande. Poi ha un nuovo processore, è diventato più veloce a fare tutto e poi la compatibilità con il protocollo Matter, io ho provato a collegare qua una presa proprio con questo protocollo e ha funzionato tranquillamente tutto. Invece cosa? Non è cambiato, ahimè, ahimè, poi in realtà è un buon display da 8 pollici, ma avrei perfetto magari una versione Enhanced Plus Max, chiamatela come volete, con un display full HD OLED per avere una qualità ancora migliore. Comunque ci sta, invece non è cambiata la cam, sempre 13 megapixel, non mi fa impazzire il design. Guardate quel rettangolo che è stato tagliato nella cornice per la cam, è vero che serve per far scorrere la chiusura, ma anche la chiusura bianca rispetto a un dispositivo che è completamente nero. E questa cura l'avrei avuta anche nel cavo, vedete, bianco il, no non è un caricabatterie, l'alimentatore è bianco, anche lui, non lo so. Invece il design del device mi piace con questa parte posteriore in tessuto stondato, ma vi dicevo migliorato l'audio. Andiamo subito qua nella musica, faccio partire una cosa totalmente a caso, vediamo cosa parte, poi gli farò delle domande specifiche. Qua sopra il pulsante per il volume su, il volume giù e ovviamente per silenziare il microfono. Allora, prima canzone, non benissimo, però è una canzone, abbassa un po', non mi sentite, che ha tanto basso, tanta voce bassa e anche la chitarra, quindi anche delle tonalità alte. E devo dire che rispetto al secondo generazione già si capisce che si sente molto meglio. Adesso vediamo i microfoni se mi sentono. Alzo al massimo, mi allontano. Alex, riproduci musica pop. Molto bene perché al massimo mi ha capito, i microfoni quindi molto sensibili, ma soprattutto non distorce anche al massimo del volume. Ovvio che è così difficile da ascoltare. I bassi ci sono, non è come avere un subwoofer, ma la qualità audio è sicuramente migliorata. L'altra cosa che voglio farvi vedere, e mettiamo un attimo la musica in pausa, è proprio la compatibilità con Matter. Io gli ho abbinato questa presa, sempre tramite l'applicazione, perché tramite l'applicazione si possono fare anche tutte le impostazioni, molto si possono fare anche direttamente dal device. Ma se vado qua, casa intelligente, guardate nelle spine, ho proprio lei. E se schiaccio, sentite il click? Avete sentito? Click, il led diventa verde e si accende, oppure rischiacciando si spegne. È compatibile anche con Thread, fa da router, Matter, Thread, ZigBee, perché lui si fa da hub, ma non è un hub evoluto, nel senso che se ci abbinati alcuni device particolari, che hanno funzioni particolari, ovviamente non ha i driver ad hoc. Va benissimo per le luci, va benissimo per le prese, se volete qualcosina. In più ci vogliono degli hub dedicati, ma comunque lo fa e farò un video ad hoc proprio su questo argomento, che è un po' caotico e ostico. Ma torniamo a lui, possibilità di vedere i video sia su Netflix, e Netflix ce l'ha come applicazione integrata, sia ovviamente su Prime Video. Invece YouTube, Bing, TikTok va ad aprire Silk, che è il browser che è comunque integrato, poi si può andare a navigare qualsiasi pagina web. Vedete, alla fine l'esperienza d'utente non è molto diversa da avere l'applicazione. Anche nei video di YouTube buono l'audio. Ecco, rispetto alla precedente generazione trovo la velocità non super fulminea, ma decisamente migliorata. Gli Echo 8 precedenti erano veramente un po' lentucci. Ovviamente può essere usato come cornice fotografica, si possono attivare le routine. E la cosa interessante è che può essere utilizzato anche per la comunicazione con gli altri Echo che abbiamo. con il drop-in. Drop-in che si può fare anche dall'applicazione, quindi io sono in giro e posso tranquillamente videochiamare i device. Adesso vediamo se Chiara è a casa. E la cosa che volevo farvi vedere è che la cam a 13 megapixel è grandangolare. Se io mi sposto, mi segue. Ciao! Ciao! Funziona tutto? Grazie amore. Metto giù un device che con l'offerta Black Friday costa 139,99€. Non uno stravolgimento rispetto al seconda generazione, in realtà neanche rispetto alla prima generazione. Dei miglioramenti per una funzionalità migliorata soprattutto per quanto riguarda l'audio e la velocità in generale. Invece la Fire TV è questa. Ecco, la critica è che ci sono troppe Fire TV in listino e c'è la light, e c'è la normale, e c'è la 4K, e c'è la 4K Max, ma questa è veramente una bomba. Adesso attacchiamo la TV e vi faccio vedere perché è una bomba, soprattutto in relazione a quanto costa Black Friday, 59,99€, veramente, direi, best buy. Alimentatore in confezione, telecomando in confezione che vi faccio vedere dopo, il cavetto se avete un HDMI scomodo e magari non riuscite direttamente a collegarla, poi c'è anche il cavo USB, micro USB per alimentarla, ma quello l'ho già attaccato alla televisione perché ovviamente stavo già smanettandoci. Andiamo alla TV. E eccolo qua, il nuovo telecomando, interessante perché? Prima di tutto ha 4 pulsanti, scorciatoie, Prime Video, Netflix, Amazon Music, ma soprattutto perché interagisce direttamente con la TV. In questo momento io ho acceso e voilà, la TV si è accesa, è andata su HDMI 1, e quando alzo, abbasso il volume dal telecomando della Fire TV, si alza e si abbassa il telecomando della televisione. In questo caso una LG, ma è compatibile praticamente con tutti i televisori. Questa è la home page della Fire Stick, eccola qua. Come vedete si integrano, direi tutti, io non ho trovato un'applicazione che manca dei broadcaster, da Netflix a YouTube, Adazon, c'è anche la possibilità di Plex, Vivo, RaiPlay, Apple TV, NaoTV, Disney+, Mediaset Infiniti, insomma veramente tantissime, anche la possibilità dello scrolling che viene personalizzato in base a cosa guardiamo e in base all'account perché tutte le applicazioni aiutano a andare a costruire questa home page. Video in diretta, c'è anche il link rapido sul telecomando, si entra nella guida TV delle applicazioni che fanno streaming dei canali live. C'è Rai, RaiPlay, che fa questa cosa qua, e poi Pluto TV va a integrare molti altri canali che sono quelli che vi sto facendo vedere al volo adesso. Ma, per esempio, non avete un'antenna del digitale terrestre ma volete comunque vedere i canali della televisione, con questa Fire TV si può. L'ho trovata una cosa interessante, per ora appunto Rai e Pluto TV, ma mi immagino che magari anche Mediaset potrà integrare, magari in un futuro, i propri canali live. Ma parliamo un po' di qualità e tra l'altro anche di Alexa. C'è il pulsantino per attivare Alexa, oltre al comando della domotica, che tempo fa insomma le cose e le cose, si può anche chiedergli una ricerca contestualizzata nelle applicazioni. E adesso andiamo a vedere invece la qualità. Cerco il solito video 4K HDR, lo faccio partire. Mi piace che supporta tutti gli standard HDR fino al Dolby Vision. Il Wi-Fi 6 e 3-band. Ecco perché dicevo che la tecnologia è importante in quella chiavetta. Anche un buon processore, avete visto, girare i menu è stato molto veloce. Adesso io non ho una TV OLED, ma comunque una TV che si vede molto bene e il 4K è riprodotto molto bene. Non ho nemmeno abbassato tutte le luci, perché questa non è la recensione della televisione, ma della Fire Stick, che ripeto, ha un'ottima qualità di visualizzazione. E proprio per quanto riguarda la velocità, guardate, adesso io entro in Netflix, sono uscito da YouTube. Veramente in 5 secondi ho cambiato applicazione. Vado in un video qualsiasi, SWOT, lo faccio partire e vedete come è reattiva? Sono già pronto a visualizzare. Poi schiaccio Home, vado in Prime Video, poi provo a vedere se con i pulsanti qua sotto lo switch è altrettanto rapido. Ma sono già sulla piattaforma di Amazon per i video. Pronti? Vai, Amazon Music, guardate, uno, due, si è già aperta. Torno alla Home per farvi vedere l'App Store, quindi lo store di applicazioni di Amazon. Ci sono veramente un sacco di app. C'è anche Spotify, c'è anche la possibilità di navigare su internet con il browser Silk. Col telecomando ci si può muovere comodamente anche sul browser, unica cosa che non si può inserire del testo vocalmente. Ma nelle impostazioni voglio farvi vedere una cosa. Suoni e schermo, la possibilità di abbinare alla Fire Stick TV un altoparlante o due altoparlanti ancora meno per fare una coppia stereo di Echo per avere un home theater, cioè se non ci basta un altoparlante da TV si può anche fare questo. Massimo 4K, 12 bit colore e anche la sincronizzazione dei frame quando andiamo in modalità gioco. Insomma, devo dire, un gran bel device rispetto ai 59,99€ che costa. Migliorata tanto la velocità di scorrimento nei menu, migliorata la qualità proprio del video. Dolby Atmos si vede veramente molto molto bene. Faccio fatica a trovare un difetto. Forse quando finirà la promozione Black Friday 79,99€ un po' tantini. In realtà per la qualità che ha nemmeno così tanti ci starebbe comunque anche a 79,99€. Come ho detto prima, secondo me per far diventare smart un monitor oppure un proiettore perché le TV, diciamoci, ormai sono già praticamente quasi tutte smart, ha tantissimo senso. Funziona veramente molto molto bene. Un saluto da Andrea Galazzi, punto com. Grazie a tutti.